Ben ritrovati amici di Bestec, le uniche breaking news della tecnologia, riparliamo di droni. Come avrete sentito il governo ha pensato di mandare dei droni per bombardare gli scafisti libici, ma non ce l'hanno, non li possiede. Per costruirli ci vorrebbe un anno. Nel frattempo quei criminali hanno trasportato in Europa mezza Africa. Parliamo di droni non per questa ragione, ma perché negli Stati Uniti un esimio giornalista, direttore di Wired per molti anni, ha creato una società che si chiama 3D Robotics, lui è Chris Anderson, per creare dei droni che servono a fare le riprese per il cinema, per altri media. Allora ha creato un drone che si chiama Solo. Già il design mi sembra stupendo, il materiale eccetera eccetera, ma l'idea di Chris è quella di farlo guidare da una plancia, da una console che è veramente a prova di scimpanze, perché si comanda da lontano usando uno smartphone e una applicazione. Fa le riprese alta definizione a 720p ed è un drone che più o meno è alla portata di tutti perché costa tra i 1000 e i 1400 dollari. e la possibilità di farlo con le strumenti, che rende più facile per te ottenere un ottimo, professionale di un giorno. Cablecam permette di solito a un'attività virtuale tra i due punti in l'air, quindi puoi concentrare la camera. Pan e tilt la camera freely, senza nemmeno di mantenere la direzione di copter. Solo può anche memorizzare la sua frammenta di ogni punti di l'attività, Then smoothly shift your camera between the two points, easing into and out of the moves like a seasoned professional. These features are made possible by Solo's two onboard computers, which enable radical breakthroughs in both flight and camera control. This makes Solo the world's first smart drone. By harnessing the power of these computers, even brand new pilots have the ability to capture beautiful cinematic shots that would otherwise require years of practice. The included mobile app gives you a beautiful live view from your GoPro. Saliamo di livello sempre nel mondo dei droni e qui so che i miei amici operatori cominceranno a sbavare della felicità perché? Perché un'azienda che si chiama Brain Pharma ha creato una nuova generazione di droni e con chiaramente un'architettura per montarci sopra, non una GoPro che è molto leggera e che rende le immagini diciamo belle ma non eccezionali, ma una Phantom Flex 4K, vuol dire una videocamera molto potente e anche molto pesante che realizza delle immagini quattro volte più definite dell'alta definizione. Qui comunque stiamo parlando di un drone professionale che viene proposto al pubblico a 250 mila dollari, è evidente che serve per le case di produzione o i registi. Con questa notizia vi saluto, vi do appuntamento alla prossima puntata di Best Tech e anche sul mio sito dove potete venire a cercare queste notizie con tutti i link, i riferimenti e gli approfondimenti Gabriele di Matteo.com